Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con la parte numero 4 del let's play di Mark of the Ninja. Una cosa molto veloce prima di iniziare. Ho notato che più andiamo avanti col gioco, più i livelli devono sempre più lunghi. La parte precedente è durata, non mi ricordo quanto, tipo quasi 30 minuti, forse anche di più. Quindi ho deciso che da questa parte in poi faccio video di circa 20 minuti come al solito, perché se faccio un livello per parte poi mi vengono parti da un'ora e per me sono troppo pesanti. E se sono troppo pesanti non ho voglia di montarli, sono più lento a caricare, quindi, insomma, meglio così. Un cambiamento di rotta, il tuo bersaglio si nasconde ben protetto nella torre Iessiana. Per potervi accedere devi riuscire a distrarre le guardie. Ok, ricordo che devo sempre uccidere un uomo che mi ha derubato il clan in inizio del gioco. Allora, ho 12 monete e posso prendermi un po' di cose. Appoggiti a una porta premix per spingiti dentro un nemico e ucciderlo. Bella questa. Quando si è pesa soffritto, bello, questa qui è bellissima. Grazie a questo allenamento speciale non mi potessi essere in grado di scassinare il serratore più rapidamente. Utile, ma non indispensabile. Consetto di avere una maggiore protezione senza comprometto alla tua agilità. Secondo me è inutile. Poi vabbò. Una luce alchenica attira l'attenzione nei guardie nei vicinanzi e rivolte verso il bengala e accerca quelle che indossano gli occhiali perla. Ok, non ha finito la frase. Consiglio un potenzialmente da macchina del rumore. Un fusibile modificato che consente di fare esplodere a distanza delle bombe acustiche. Premi Y per fare esplodere una volta lanciate. Allora, io direi di prendere questo. Sì, è molto buono. E boh, questo. Sì, sì, ci sta, ci sta. Ok. Operazione completa. Posso scegliere se il portamento c'è la macchina del rumore o le bombe fumogene. No, sì, dal portamento c'è le bombe fumogene, sti cazzi. Sì, sì. Sì, sì, sì. Questo era più costoso che ci credo. Sì, senza farlo. Ci sono un luogo, ci sono… Ci sono le possibilità di noi. Si sia, ci sono le possibilità. Ci sono le possibilità di farlo. Ci sono le possibilità di farlo. Le blico, ci si sono le possibilità Sì, signor. Ai piedi della torre chissiana. Bene, bene. Come piace a me. Ah, sì, carino questo livello. Sì, 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 sì. No, in realtà no, però... Basta! Ok. Che per entrare in quell'edificio lì bisogna distrarre le guardie, come ha detto lei. E... niente. E per farlo dobbiamo far scoprire un incendio. Quindi, questo livello si recupera... Uh! Un nuovo oggetto, la mina. Posiziona una mina puntita per uccidere la prima guardia che ha prestato. Non lancia altro po' di geni per evitare che si accolga del suo umore quando tocca terra. Sembra molto forte, ma in realtà non è che la uso così tanto. Questa qui non è un oggetto come la bomba fumogena, ma è un'arma. Aspetta, non ho letto le missioni. Teorizzano guardie uccidendo un'altra con una mina. Apri tutte le prese del gas. Uccidi due guardie con un unico lampadario. Ok, la terza sembra facile. Apri tutte le prese del gas... Boh. Teorizzano guardie uccidendo un'altra con una mina. Ci sta, ci sta. ... Io... Ok. Tu ti fai un bel bagnetto. E andiamo avanti. No Cazzo Ho fatto una minchiata No, non mi ha visto Uccidilo Ok Posso mettere qua dentro? No, ok No, non li lanciano Ok, adesso Oddio, li odio sti cosi Sono sensori acustici Cioè non acustici, cazzo sto dicendo, di movimento Se sto fermo non mi fanno niente Se mi muovo Mi ammazzano in sostanza Allora Niente nemici Uh Eh, mi ha fatto che rimane un topolino Uh, cosa c'è qua dentro? Uh, un artefatto Io ho ammazzato il topolino No, ho ammazzato veramente Ma cosa? Sono qui Non la taglio neanche Yo, sono qui Vieni, vieni Eh, però non Facciamo ricominciare il checkpoint Perché non è Non c'è morta la guardia Allora Ma perché vanno lì? Cazzo Ah, però ho fatto una missione Dai, quindi in fondo sti cazzi Due fuoco amico Con la guardia sta ammazzando le altre guardie Figata L'ho mangiato un po' di grana Mm Buono grana Mi, non mi rileva se posso dire No, non mi rileva Figata Figata Cioè, questa guardia ha fatto strage Con la guardia niente ha ammazzato le altre due Figata Adesso prendo l'arte forte e festeggio con un po' di grana Scusate, mi ha portato pezzettino di grana È buonissimo Ok Ora non da di qua Qua direi che non ci posso andare Quindi Allora posso andare di qua Se ho le bombe fumogene Se no posso di qua, va Qui c'è qualcosa? No Scendiamo allora Perdita di gas Abbiamo pipe, venti Potremmo usare queste per iniziare un fai Un grande fai Dobbiamo aprire tutte le prese del gas Ups Eh 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 Addio Ok Siamo quasi a dieci minuti Vado a nascondere quest'altra guardia Quanti punti ho? Mmm Siamo a che livelli sia lungo Oddio Meh, i topi Dunque A noi due Prese del gas Yeeeh Ok Abbiamo fatto scendere il coso Quindi Torniamo su Ora possiamo salire Uh, mi ha preso una mina Va passando da destra a sinistra Va passando da destra a sinistra No, 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 no Posso passare di qua Non sono accorti di niente Seremente Ah no, quelli sono accorti di qualcosa Oh cazzo Che coglione No, non quella Ah Facciamo una cosa Fatte bene Adesso lo ammazziamo Spam Non c'ho voglia Nascondo tutti i corpi Però temo che mi convenga Oddio c'è il cane Spam No Oh fuck Oddio sto pezzo Non mi ricordo quando ho fatto La prima volta è stato un parto Mori No Perché non sei morto No 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 Grazie a tutti. Sì. Sì. È la mia occasione! Non ci credo! Non ci credo! Finalmente! Finalmente ci sono uscito! Raga! Non sapete quanto cazzo di tempo ci ho messo! Un casino di tentativi! Una cosa così... All'apparenza facile! Però, boh, ci ho messo un casino di tempo a farci! Mamma mia! Mamma mia! Finalmente! Finalmente! Mamma mia! Ho preso il gas! Ok, sono sei! Ne ho presa una! Boom! Ottimo lavoro! Uno è andato... Sì! Un sito dove di gas! Molto divertente! Allora, noi prima siamo passati per di qua! Ora, io passarei per di qua! Oh, ci sono quelle cose che ti vedono se... Ti vedono! Boom! Eh... C'è qualcosa qua? Allora, prima andiamo qua! Uh, un artefatto! Non si può proprio andare di qua! Ah, ecco si si può! Allora... Qua c'è una porta! Oh, signore! Oh, signore! Oh! Oh! Oh, signore! Oh! 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 Oddio! Mi ha sfiorato! Mi ha sfiorato! Ok! Ok! E2 per essere il gas! Più che altro con quel pezzo prima che ci ha messo un anno a farlo non so a quanti minuti siamo! Quindi fermerò più o meno a caso il video! C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? Vabbè, sì, grazie, giù! Uh, una sfida! Ah, no! Ah, no, no, no! Questi sono quelli che ti permettono di comprare altre cose, di rompere... Ok, 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 ok! Ehm... Beh, questo è carino! Sì, dai, già che ci stiamo aprendo questo! Uh, nuovo costume! Il cammino del cacciatore! Eh, stavolta ti prendo la macchina del rumore, va! Faffanculo! Uh! Diii! Oh, oh! Non è che mi vede l'allarme, vero? No, ok, fantastico! Un gioco baggato for the win! Eh! Che coglio... Ma gli ero davanti! Gli ero davanti! Davanti alla faccia! Ehm... Comunque, non sono sicuro di riuscire a prendere abbastanza punti per prendere il tragettone. Ah, lol! Ok, altra pressa del gas... Ok, adesso... Guardate comunque che velocità! E siamo a 3! Quanti punti ho? Quindi... Sì, vabbè, dai, devi farci! L'uomo! Gli erano i tuoi ponte! Mi sono stato? No, se c'è una guardia viva vuol dire che non ci sono stato. Ma che è sufficiente. Ma si stanno a diventare ponte. Dobbiamo arrivare al tetto! No, 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 no! Io... Chiudo tutti i gas. Chiudo... Sì, va bene. Oh oh. No, 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 no! Non ho visto! Cazzo Dove sono? Ho già preso questo qui Questo gas qui, no Ah, fanculo Ho già comprato Ok, il puttizia mizzi salva Uccisione stilosa E due Ok Ma scusa, io non mi avevo comprato il coso Eh, non mi è sembrato Cadenziato Vabbè Non importa, dai Sbam Magari stavolta lo metto un po' in qua Dice, dite che mi senti da qui? Cagnolino Non sto facendo niente al scemo Ma... 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 Cane, puoi finire un po' in qui? Ok, ora stai lì? Ohle, finalmente Madonna Ci ne ho messo il tempo per farti ammazzare Uh, fa poco che ho il video, raga Mi nascondo e poi termino la parte Cioè, la parte che avevo già nascosto Oh no, c'è la sfida Ok, finisco la sfida Poi finisco la parte Non ho più idea di quanti minuti siamo Ma non me ne frega Oh Un'altra cosa con i laser Stanza delle sfida Ogni passo in avanti Mi corrisponde una lì indietro Ok Tac, tac Ma io ho fatto un miso uccido Guardi... Ok, sì Ma che sono stato un miso di gas, allora E uno Tac Vabbè, è facile, dai Tac Tac No Ok, c'è qualcosa che non va Ma? Sei troppo lato? No, vero Ah, capito, capito, capito Tac Figata Sì, sì, sì Ma è facile, raga Basta continuare Eh, e adesso? Adesso scendo Magari passo di qua Poi forse passo di qui Prendo questo Questo E voilà Bellissimo È anche abbastanza semplice E con questo terzo e ultimo IQ di questa parte Io vi saluto E ci vediamo alla prossima parte Di Mark of the Ninja Se il video vi è piaciuto Cliccate col pollice di che punta Presso l'alto Io vi saluto E ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi E ci vediamo alla prossima